Ciao a tutti ragazzi, qui è Forte Camera che parla e benvenuti in un video diverso dal solito. Oggi vi voglio parlare di una storia, di una storia che ho avuto online mentre giocavo con un mio amico di nome Santo. Allora, in pratica la storia è la seguente. Stavo giocando a Diaper Escape e incontriamo questo tizio in lobby. Comunque, io sono di solito un tipo molto friendly, cioè quando qualcuno mi incontra online, dal vivo, cioè cerco sempre di fare l'amico, simpatico, anche se qualcuno è straniero, tendo a parlare inglese, cioè a farci amicizia. Tra l'altro, piccola parentesi, in questo video il mio inglese farà schifo perché quello che vedrete ragazzi è accaduto in live. Quindi io stavo parlando inglese, italiano e napoletano mentre mantenevo la live e salutavo tutti i fan del sito Viola, su cui appunto porto le streaming. Link in descrizione per seguirmi. Comunque, il mio inglese sarà brutto, quindi non criticatevi, giuro che lo conosco, giuro col C1. Quindi ragazzi, mi raccomando, guardate il video fino alla fine perché veramente fa sbellicare dalle esate. Infatti ragazzi, io vi ricordo comunque che il video, cioè io l'ho pubblicato semplicemente per farvi ridere, per portare un po' di positività. Non voglio assolutamente incitare a nulla di cattivo perché appunto alla fine si tratta di un paio di lobby, cioè di un paio di discussioni in un videogioco che lasciano il tempo che trovano. Quindi niente raga, beccatevi sto video. Man, just try to go a little bit of safe, so let's go to arcway a little bit further, ok? Sorry man, I have to use the... I can use the push torque because I can speak with you. And I'm using controller, so that's it, sorry. Santo ti raggiungo? Ma lo stai picconando o sbaglio? Quello ti sta sciogliendo, non è che lui che si sta sciogliendo. Aiuto? Sto arrivando, sto arrivando. Uno, gli ho patto mani, però sono due, sono due. Ok, l'altro ci sta, pochissima vita fra push allo push. No, sono in tre, sono in due, sono in due, sono in due. È un altro team, è un altro team. Tranquillo. Sì, 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 sì. Non si capisce. Nice landing, nice place, nice peak. Buon chat. Sei sceme. Man, i posti nearer sono a circa 100 metri. Ah, la zona è sicura, man. Sta fuggendo, credo. E' un po' spaventato, ragazzi. Sì, è un po' spaventato, ragazzi. Vabbè, senza fortuna che mi resta in squadra, cioè, che vuole fare. Ma infatti, non so perché siamo ancora... Cioè, questo è già morto, è già morto. Allora, vai, fra, spara, 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 shoot him, shoot him. Guarda, 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 guarda come muore, guarda come muore. Man, these spots are clear. You can... No, no, they are not, they are not, they are surviving, they are surviving. Allora, se uno se lo uccide, poi uno si mette sullo spot. Vabbè, sta facchiapparello, veramente. Oddio. Ti stai animando, addirittura? Incredibile. No, come ti fai... Ma veramente? Waaah... Waaah, che passaggio. Oh, sei scemo. Waaah, ragazzi, questo non ci vuole rianimare. Ha detto, non vi rianimo perché parlate troppo. Yeah, yeah, yeah. Tu so, Garnat, ma che parisci una sua musica, questa paca. Ha, ha, ma che serio? Che serio? Che schifo? Che cringe? We are two friends, we don't care about what you make. We jump and die together. Ma tu, Mero, che cringe? Why you? Why you? Che cringe? Okay, okay, man, if you want us, please, no problem, no problem, just win the game alone. If you can, okay, that's okay, no problem. Yeah, 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 just play, just play, win this game. Alone, you will, we'll surely win. If you, if you play Alone, you, no, 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 you shut the fuck up, man, no, I don't fucking care. You don't want to arrive us? Okay, okay, let's win this game. I will respect you, I will cheer you up, I will cheer you up, no problem. I will cheer you up, I will cheer you up, man. You can win this game. Don't worry, dude. Oh my God, so good. So good, oh yes. Oh, vabbè, ragazzi, è scandadoso, è scandadoso. Che simpaticone, se intanto la vince da solo, sicuro, sicuro, ragazzi, la vince. No, volevo aspettarlo, devo aspettarlo finché non vince. Va vai, vediamo quante kill fa, vediamo quante kill fa, sono curioso. Cioè, ci ha definito disgusting, ci ha definito disgusting, capito come? Bah, va bene, va bene. Va bene, no, 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 tanto, non ti metto, non voglio essere animato. No, voglio vedere, voglio vedere, tanto questo mo trolla, se ti metti sopra trolla, se ti metti sopra trolla. Vai, 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 vediamo, vediamo. Oh, oh my God. È rianato? Ti ha curato? Ti ha curato? No, ho capito. Vabbè, esatto, rianimami. È rianimato? Vabbè. Ok, vediamo che vuole fare. Vediamo, vediamo, sì, sì, vai tranqu... Sshhh. Sshhh. Tizzi, tizzi, tizzi. Decivole. Vabbè? No, non sai che cade in mano, semplicemente ha capito che giocare così è inutile. Perché non si può fare dal solo versus squad. E ci fai io, perché... Ha fatto un rottino. Ha fatto un rottino. Thank you, mate. I love it. That's my kind of affection and love that I want. Ti serve la mano? No, ce l'ho più in me, tranquilla. No, ma lui è morto. No, ma vive, è vive. No, no, se muore io lo rianimo, se muore io lo rianimo. No, se muore io lo rianimo. Mi interessa. Io devo vincere, devo giocare, ma che mi interessa? Sessione sta uno giù. Porca miseria. Mi sa che lì sto portando, santo, eh, t'avviso. Man, are you from Russia? Ma chi sei scemo? Oh, Gesù Grist. Per co... Caro... I'm a founder, man. I leave drop. If you want, ok. But I don't think that we'll care. Cioè, ma che sei scemo? Eh, è sci... Ma... Ma è stupido. Ci chiama disgustosi e poi vuole avere anche ragione. Ma che che... Perché gioco... Ok? Va, veramente, ragazzi, scandaloso. Oh, no. Vai, vai, tranquillo, man. Qua, se vinco quanto godo. Mi chiedi se vinco quanto godo. Vai, portiamoci a casa sto... No, veramente, se godo ci... Comunque devo ripigliare il nome e ci devo mandare lo screen, se vinco. Mamma mia. Ci ha chiamato disgustosi, eh. Ci ha chiamato disgustosi, ragazzi. Cioè, veramente... Vuole riportare noi quando... Eravamo noi... Che lui non voleva rianimare. Devi meno, devi sfondare con... Devi sfondare con... Attenzione meno, una palla di fronte. Mamma mia, massacrato di brutto. No, ma snaiperati. No, ma snaiperati. Madonna. Riesci a vedere uno spot in giro? Eh... Più tranquillo, però, perché se ti ha snaiperato... Era solo un maleducato, sì. Se riesci a venire diretto sul testo, ci sta. Eh... Prova un attimo, solo che non ho... Non ho abilità dirette. Aspetta, prova un attimo. Vai, vai, ci sono, ci sono, ci sono. A posto. Stanno in questa casa sotto di noi, comunque. Ok. Si sta chiudendo il settore. Se vogliamo restare qui, noi ce lo prendiamo alle spalle. Aspettiamo che si chiude, non fa niente. Pure che non abbiamo la cura, non credo che ci... È morto, è morto, è praticamente morto. L'ho ucciso, l'ho ucciso. Ma è morto, è morto, è morto. Tranquillo, vai. A posto. Aveva proprio le mie abilità. Ma ti giuro, Freda, questo mi ha fatto raggiare troppo. Ma no, che stizza. Vabbè, non oso immaginare, guarda. Non oso immaginare. Comunque stanno su di me, io sono andato di invisibilità. Cerca di non farti notare per un po'. Oh, grazie di avermi aperto la porta perché mi sei lì. Ma no, ti stanno addosso, ti stanno salendo, stanno salendo. È morto, è morto, è morto, è mortissimo. Si è curato, è salito con lo schianto. Sotto c'erano qualche... Cioè, c'erano delle armi. Per esempio qua c'è un altro X-Fire, se ti interessa. No, no, ma non c'è il team addosso. Freda. Ti avviso, te li sto portando dentro la casa, eh. Vai, 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 c'è il comodo. Vai, vai, vai. Mica i mine. Un assist me l'hanno fatto, quindi qualcuno di loro è morto. Vai, vai, entra, entra, entra. Madonna. Quella mina è stata bellissima. Perché sono più veloce nella ricarica? Un altro ucciso. Sparano? Sparano da sopra? Utilizza l'armatura e scendiamo... Andiamo sopra di loro. L'ho colpito 51, no, però mi fa male, santo. Wow, santo è morto, wow, ti giuro, ti giuro, ha uno di vita. Uno proprio, ti giuro uno. No, l'ho perso. Aveva uno. Siamo in tre squadre, man. Guarda che questa se... Io piglio la corona. Lo faccio, Fra. No, hanno preso... No, hanno messo il muro sulla corona. Aspita. Lo sto massacrando, è morto. Fratello, ci dobbiamo uccidere quello con la corona che sta praticamente da solo con i compagni. Sta veramente solo con i compagni, quel tipo è pericolosissimo. Ho preso la corona, ho fatto questa follia. Cerchiamo di stare in casa assieme, cerca di raggiungere la casa mia prima possibile. Vai, tranquillo. Cerchiamo di sfondarlo. Ti do una mano a sfondarlo, vai, Aspè. Vai. Sono su di me. Vai, vai, teniamoci qua, teniamoci qua. Abbiamo 20 secondi, vai, vai. Alla faccia di quello. Vai, no. Scusami, no. Siamo disgustosi, va bene, vinciamo nel game. È vinto, vai. Tanto se attivo l'armatura ho vinto, se attivo l'armatura ho vinto. L'attiva, 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 vai. Hai vinto, vai, a posto. E poi è così. Come siamo? Siamo un team disgustoso. Cosa siamo? Un team disgustoso? Sì. Siamo un team disgustoso. Siamo un team disgustoso. Siamo un team disgustoso. Quanto godo a vincere in due, vai. Siamo un team disgustoso. Alla faccia sua, sì. Perché è un maleducato. Un maleducato. Decisamente maleducato. Noi stavamo semplicemente parlando e lui già si è messo a rompere. Che noi stavamo parlando. Cioè, non si può parlare. Mutaci. Mutaci. Noi stavamo semplicemente parlando e lui già si è messo a rompere.